Diciamo che le indagini di antimafia sono state fatte, sono numerose, sono in corso e questa è un'indagine che ha messo in luce un quadro, una realtà che dobbiamo capire dove può portare e che collegamenti ci possono essere con altre organizzazioni criminali. Siamo una regione, un territorio confinante sia con la Campania che con la Calabria, quindi la nostra indagine è aperta a collegamenti con criminalità sia campania che calabrese. In quest'ultimo anno, sì, 2013-2014, in tutto il distretto della Corte d'Appello di Potenza ci sono molti episodi del genere. Ci sono stati episodi sia nel Melfitano, ci sono stati numerosi episodi simili nel Metapontino e adesso anche nella zona del Lago Negro. Quindi è una regione circondata, accerchiata. Noi le nostre indagini le facciamo, le portiamo avanti e speriamo di contenere, non pensiamo di eliminare del tutto, ma di contenere questa infiltrazione.